Buongiorno, buon martedì 31. Buongiorno, buon martedì 31. Comporta lo scioglimento della neve con frane smottamenti e possibili alluvioni da parte dei fiumi, in questo caso vedete il fiume Pescara. Poi di spalla troviamo gli interventi, il primo è di Stefania Pezzopane, il tempo della responsabilità e del rilancio, scrive la senatrice. E poi il deputato di sinistra italiana Gianni Melilla, enti locali lasciati troppo soli. Sempre stando purtroppo alla cronaca relativa al maltempo e al terremoto, sequestrati i telefonini delle vittime, ovviamente il riferimento all'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano, sono investigatori a caccia degli allarmi inascoltati. Ieri è stato interrogato il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. Chat di WhatsApp, Facebook, foto e video entrano nell'inchiesta sul disastro dell'hotel Rigopiano, anche i telefonini delle vittime. Gli investigatori vanno a caccia degli allarmi inascoltati per ricostruire cosa è successo il 18 gennaio scorso. Il sindaco di Farindola ha ascoltato per tre ore. E poi Atri e Città Sant'Angelo, una folla saluta i morti del resort e ancora il processo Bussi in corte d'assise d'appello all'Aquila. La difesa dice che i pozzi non sono stati mai avvelenati. E poi esami di maturità escono le materie latino al classico. Nel taglio basso, smog a Pescara torna all'allarme e inquinamento. Le centraline segnalano il superamento dei limiti dei PM10. Emergenza smog dopo il lungo periodo di maltempo in cui i valori sono stati preoccupanti. Vener di scorso, tutte e tre le stazioni di rilevamento hanno segnalato lo sforamento dei limiti del PM10, le polveri sottili. Si torna così alla situazione di fine 2016, quando è stato imposto di abbassare i riscaldamenti. A Rocca Morice si ustiona in casa un pensionato grave. Restiamo sempre sul quotidiano Il Centro. Cambiamo edizione. Questa è la prima dichiaria di Lanciano Vasto. Vedete il titolo di apertura e gli interventi di spalla sono i medesimi. Così come le notizie che riguardano l'inchiesta di Rigopiano, il processo Bussi e i morti al resort di cui ieri si sono celebrati i funerali. Dunque andiamo nel taglio basso per vedere la notizia che arriva da San Salvo. Il parroco vuole demolire la chiesa, vedendo in rivolta dopo l'annuncio dall'altare, lettera al Papa. I costi per istrutturare la parrocchia di San Nicola sarebbero di gran lunga superiori a quelli da affrontare abbattendola e ricostruendola così il sacerdote comunica ai parrocchiani la decisione di buttare giù le vecchie mura sacre ma non ha fatto i conti con i devoti pronti a chiamare in causa i vertici della chiesa. E poi chiedi i film di Maccio Capatonda, l'anteprima si farà nella sua città. Andiamo sulla prima di Teramo. Nel taglio basso i danni di terremoto e neve sgomberate 81 famiglie teramane. Le infiltrazioni d'acqua rendono inagibile un asilo nido. L'onda lunga del sisma continua a martoriare Teramo. Ieri il sindaco ha emanato 11 ordinanze di sgombero che hanno interessato 81 nuclei familiari. Intanto resta un rebus la riapertura delle scuole e all'elenco di quelle inagibili si aggiunge il nido Pinocchio con l'attigua materna, ma stavolta è colpa della neve. Poi a Giulianova Pizzaiolo muore dopo la visita dal medico. Si tratta di Marco Di Silvestre, aveva 47 anni. Andiamo sulla edizione di L'Aquila Vezzano sul Mona. Nel taglio basso il caso all'Aquila. Sisma e disagi. Fuga dall'università. Studenti disorientati tra chiusure e difficoltà per gli appelli. Mi invito caldamente a trasferirvi presso altro Ateneo. Bastano poche parole di un docente del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università. a sollevare il polverone. Intanto tra sisma e disagi per l'attività didattica molti studenti hanno le valigie pronte. C'è il rischio spopolamento per la prima industria della città dell'Aquila. E poi a Vezzano, scuole, ecco la relazione capacità sismica bassa. Questo dice appunto la relazione dell'architetto Sergio Pepe. Adesso cambiamo testata, passiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo. Allarme valanghe, mai arrivato. Questo è il titolo di apertura su Rigopiano. Il sindaco di Farindola ha sentito dai carabinieri forestali e ha usato tutti i mezzi che avevo. D'Alfonso chiede al governo norme fiscali ad hoc per rilanciare l'economia dopo le calamità. Andiamo a vedere un estratto degli articoli interni a pagina 40. Durato circa tre ore, l'interrogatorio da parte dei carabinieri del sindaco di Farindola e Lario Lacchetta. Il primo cittadino rappresenta un pezzo importante del mosaico che stanno ricostruendo gli inquirenti attorno al disastro dell'hotel Rigopiano in cui sono morte 29 persone. Una sorta di snodo per comprendere dove sia avvenuto il cortocircuito delle informazioni che hanno impedito di evacuare l'albergo e di mantenere sgombra l'unica strada che portava la struttura nei giorni di intense nevicate. A Lacchetta, ascoltata come persona informata dei fatti, i carabinieri hanno chiesto conto di quelle che erano le sue competenze in quella circostanza, di cosa fece in quelle ore e di quali iniziative prese per affrontare quell'emergenza che poi si è trasformata in tragedia. Lacchetta avrebbe detto di aver attivato le forze che aveva per affrontare il problema della neve e di non aver mai ricevuto l'allerta meteo che innalzava il pericolo valanghe. E sempre su Rigopiano vedete la fotonotizia. Il sequestro del sito è stato dato in carico ad alcuni consulenti per cercare la verità sulla strage. Il procuratore Tedeschini ha chiesto a tre consulenti la verità sulla tragedia. E poi sempre per quanto riguarda sisma e maltempo l'Aquila ritorna a scuola e per i genitori servono più garanzie. Arrivati intanto 66 milioni di euro destinati a fronteggiare il rischio idrogeologico nell'Abruzzo delle Frane, delle esondazioni, dell'erosione della costa e delle valanghe. E poi la cronaca nera Pizzaiolo ritira la ricetta stroncato da un infarto a Giulianova Marco Di Silvestre doveva sottoporsi ad un elettrocardiogramma. La morte non l'ha voluto aspettare aveva troppa fretta di portarselo con sé. Così Giulianova piange da ieri la morte prematura di Marco Di Silvestre 47 anni proprietario e pizzaiolo della storica pizzeria da Marco ubicata in Piazza Buossi nel centro storico. Da quello che si è appreso da qualche giorno l'uomo avvertiva qualche problema di carattere cardiaco se non un vero e proprio dolore quasi un'oppressione al petto. Si era per questo recato dal medico di fiducia il quale aveva giustamente deciso per fugare ogni dubbio di farlo sottoporre ad un esame elettrocardiografico. Aveva accelerato la cosa ed aveva lasciato l'impegnativa nel suo studio dove Marco è arrivato a ritirarla ma purtroppo non ce l'ha fatta. Non ha fatto in tempo è tornata a casa e si è accasciato a terra stroncato da un infarto. E poi ancora la cronaca rapino a mano armata nel deposito delle slot a Vezzano la banda è entrata in azione ieri mattina a Civitella, Roveto. Di spalla andiamo a vedere comuni fai da te senza Equitalia scoppia il caos Rottamazioni e l'Abruzzo la regione con la più alta percentuale di comuni che hanno voltato le spalle d'Equitalia nel 2016 come segnala una tabella del sole 24 ore ben l'81,6% delle amministrazioni locali ha fatto a meno dell'agenzia di riscossione delle imposte e delle multe legate al codice della strada. In Abruzzo come detto l'81,6% dei municipi non si serve dell'agenzia ultimo posto in Italia ovviamente questo sta creando diversi disagi. Nel taglio basso Francavilla simula il furto per non pagare finge di essere stato rapinato per non pagare gli alimenti ai figli. Un papà di 29 anni è finito nei guai a scoprire la messa in scena sono stati i carabinieri che lo hanno denunciato con l'accusa di simulazione di reato. Nel taglio alto Teramo la promessa di Malagò lo sport vi aiuterà e poi la MotoGP a nonne prova con la Suzuki a Sepang Belen lo cronometra e poi la Serie A Pescara Cerci per l'attacco stop Juve a Mandragora la punta dell'Atletico Madrid firma un contratto per sei mesi con opzione per il prossimo anno contro la Fiorentina scatterà l'ora di Montari out ancora Gilardino. Passiamo alla prima della città quotidiana della provincia di Teramo unità di intenti sul decreto Abruzzo e il titolo di apertura ad Alfonso chiama raccorte parlamentari abruzzesi servono misure per superare l'emergenza e poi a centropagina si ricomincia a scuole le superiori riaprono domani Teramo decide oggi ancora nel taglio alto Tortoreto verso il voto di Stanislao strizza l'occhio ai dissidenti della Ricchia e poi Giulianova arrivano i fondi per l'erosione e per il Tordino a Roseto degli Abruzzi cartelle arretrate ecco cosa si potrà rottamare di spalla la replica di Giosia tagli alle commissioni della ASL lo dice la legge poi Montori Alvomano la banda del self service colpisce ancora per il terremoto pratiche più semplici dopo 5 mesi niente più doppie verifiche fast e A ed S e invece nel taglio basso troviamo il calcio mercato il Teramo si gioca una stagione in 24 ore cercando la seconda punta ora passiamo a leggere le prime pagine nazionali e dunque andiamo a vedere i principali quotidiani italiani iniziamo dal Corriere della Sera attenzione su spread e borsa il titolo di apertura che riguarda i mercati Milano giù del 2,95% il rapporto BTP Bund sfiora i 190 il famoso spread pulizia con i conti in unicredit persi 11,8 miliardi il Fondo Monetario dice attenti al debito pubblico la trattativa intanto con Bruxelles sul bilancio per quanto riguarda la correzione richiesta dall'Europa e poi a centropagine i gemelli dello spazio non sono più identici gli effetti uno a terra l'altro in missione il suo DNA è mutato e poi andiamo in Canada strage alla moschea colpo al modello Trudeau l'assalto 6 le vittime fermato uno studente del Quebec andiamo avanti con la lettura dei quotidiani italiani la Repubblica l'America si ribella Trump Obama in pericolo i nostri valori apertura differente della Repubblica su quanto sta accadendo oltreoceano Canada strage in moschea intanto sono 6 i morti è stato arrestato il killer uno studente francofono estremista e qui vedete invece i cartelli di proteste le proteste contro i decreti firmati da Trump per limitare l'ingresso di stranieri negli Stati Uniti andiamo ancora avanti con la stampa Canada terrore nella moschea Trudeau un attacco alla comunità islamica Obama contro il bando così sono a rischio i nostri valori spari nel luogo di culto a Quebec City 6 i morti fermato uno studente fan di Trump e di Marine Le Pen andiamo adesso in basso D'Alema Serrenzi forza pronti a fare una lista dunque cambiamo argomento e ci occupiamo della politica interna dei problemi all'interno del Partito Democratico mentre le borse in particolare Milano fanno segnare un meno 2,95% per il caso di Unicredit intanto l'Europa stringe sui profughi la Libia fermi gli scafisti niente navi europee nei pattugliamenti andiamo sul sole 24 ore il quotidiano economico italiano borsa in calo tonfo di Milano lo spread sfiora quota 190 la caduta dei titoli bancari trascina ribasso piazza affari crolla la borsa di Atene i rendimenti dei BTP in asta salgono al 2,37% ai massimi da fine 2014 e poi i crediti deteriorati ebba una bet bank europea per gestire mille miliardi di non performing loans cioè di crediti deteriorati per l'appunto la proposta è stata presentata ieri a Lussemburgo nel taglio alto il focus tradizionale del sole 24 ore giovedì in centro città arriva a telefisco 2017 il convegno sarà disponibile anche sul web andiamo avanti sul messaggero l'Italia alla Unione Europea solo ritocchi per quanto riguarda il bilancio vertice gentiloni paduan pronta la lettera di risposta a Bruxelles nessuna manovra estemporanea misure anti-evasione IVA e sconti sul terremoto la borsa di Milano intanto perde quasi il 3% vola lo spread e poi un focus sugli statali assunzioni e concorsi dedicati nel decreto precari in 3 anni questa la riforma del pubblico impiego e poi la cronaca che arriva dal Canada Quebec City il premier Trudeau terrorismo contro gli islamici Canada stragi in moschea 6 morti il killer è uno studente fan di Donald Trump ancora un altro bollo auto per circolare sulle strade statali piano del governo per finanziare ANAS e renderla autonoma con risorse proprie andiamo sul quotidiano il tempo ecco chi rischia di perdere la poltrona e il titolo di apertura verso le elezioni stando ai regolamenti dei partiti in 77 non saranno ricandidati a 10 anni dal libro la casta inchieste promesse i privilegi rimasti ai politici a centropagina chi sporca i muri andrà in galera proposta di legge rivoluzionaria prevista una pena fino a 10 anni e poi di spalla l'intervista boccia del PD solo Emiliano può unire la sinistra e questa è la figura probabilmente che andrà a contendere la leadership a Matteo Renzi andiamo sul fatto quotidiano Napoli 12.000 condannati in libertà pregiudicati per delitti gravissimi non scontano la pena manca il personale invece nel taglio alto Lombardi e i PM marra dietro l'accusa a De Vito in procura parla del dossier che favorì la candidatura dell'attuale sindaco Raggi e poi Unicredit l'altra banca del buco da 12 miliardi mustia in rosso per ricapitalizzare ne servono 13 e dunque questi problemi di Unicredit e poi ovviamente troviamo la notizia che arriva dal Canada Quebec 6 islamici uccisi da un estremista di destra la strage killer e franco-canadese intanto Europa ONU e giudici degli Stati Uniti tutti contro la Casa Bianca e le misure di Trump andiamo sul manifesto sulla fotonotizia il titolo è Terminal America migliaia negli aeroporti statunitensi rivolta contro il bando antislamico di Donald Trump Obama con la protesta l'ONU dice di vieto illegale e meschino il presidente degli Stati Uniti tira dritto e sistema il suprematista Steve Bannon nel Consiglio Nazionale di Sicurezza e poi nel taglio alto strage antislamiche in Canada il premier Trudeau è un atto terroristico andiamo sull'unità il PD di fronte al suo futuro perché no o perché sì al congresso Fassino dice che evoca scissioni non ha capito la sfida che abbiamo di fronte per Cuperlo al di là di regole e carte bollate abbiamo bisogno di discutere di politica Rossi dice congresso e legge elettorale correre verso le urne ci porterà a sbattere e poi nella fotonotizia carne da macello la procura di Milano ha sgominato una banda che sfruttava i migranti sbarcati in Italia organizzando i viaggi della speranza al di là di 20 miglia Libero la folle corsa dei politici alle urne hanno fretta di perdere ci sono più leader e liderini che elettori e certo che nessuno arriverà al 40% ma quasi tutti vogliono votare intanto le banche stanno per fallire lo spread torna a salire l'Unione Europea ci bastona ogni giorno e si parla di alzare l'IVA questo è il riassunto che fa dell'attuale situazione politica ed economica il quotidiano diretto da Vittorio Feltri e poi a centropagina la foto di Virginia Raggi la Raggi non si dimetta per un'inchiesta del cavolo mutande verdi di Virginia facendo riferimento ricorderete alle famose mutande verdi di un'inchiesta che riguardava i rimborsi alla regione Piemonte e poi le stravaganze delle Nazioni Unite l'ONU preferisce l'Islam a Trump il foglio nel taglio alto troviamo la posizione del giornale Renzi e Berlusconi non cedano alla tentazione di alleanze populiste ma vadano al voto subito e da soli così il foglio andiamo sull'avvenire Trump non dà la linea sale la protesta la Casa Bianca va avanti le Nazioni Unite scelta illegale e meschina Obama boccia la decisione Iran e Iraq risponderemo l'ONU l'Unione Europea contro lo stop a migranti islamici obiezione dei diplomatici statunitensi rischiano il posto e poi in Canada la strage moschea la pista e dell'estremismo di destra ancora il governo dice nessuna manovra aggiuntiva questa sarà la risposta a Bruxelles che chiede correzioni sul bilancio l'osservatore romano il quotidiano della Santa Sede apre con i fatti di Quebec City uccisi mentre pregavano il pontefice si unisce al dolore dei familiari e condanna la violenza andiamo sul secolo XIX studente fa strage in moschea attacco in Canada colpi di fucile sugli islamici in preghiera sono sei i morti le indagini il giovane fermato inneggiava in rete a Trump e alle penne il bando intanto negli Stati Uniti l'ONU misure illegali Obama rischia i nostri valori e poi c'è una notizia che riguarda la costa Concordia indaga il pool criminalità organizzata Concordia il giallo degli incendi sul relitto passiamo adesso al mattino il ciclone Trump sulla fragile Italia giù le borse vola lo spread Gentiloni e l'Europa manovra solo ritocchi l'ONU il bando degli islamici illegale e meschino la casa bianca avvise diplomatici ribelli o con noi o contro di noi andiamo andiamo ancora avanti la gazzetta del mezzogiorno la sfida di D'Alema a Renzi il titolo di apertura è sulle beghe all'interno del partito democratico in vista del concresso siamo pronti alla scissione il nuovo partito vale il 10% il segretario del PD se torna al governo riduco l'IRPEF e congelo l'IVA andiamo sul gazzettino il quotidiano del nord-est l'ONU boccia Trump bando illegale il caso le Nazioni Unite meschina la chiusura agli immigrati Obama in gioco ai nostri valori Canada strage in moschea uccisi l'imam e cinque fedeli preso il killer un giovane franco-canadese adesso andiamo a vedere anche rapidamente i titoli dello sport per quanto riguarda i principali quotidiani sportivi italiani partiamo dalla gazzetta dello sport sogni di gloria Inter tra Coppa e campionato oggi alle 20.45 a San Siro e domenica allo Stadium per quanto riguarda gli impegni dell'Inter i giorni di Pioli Lazio e poi Juve per continuare la scalata la vetta i nerazzurri nei quarti di Coppa Italia i Cardi contro Immobile per la decima vittoria di file il 5 febbraio a Torino il big match verità in casa bianconera Iguain va già la carica battiamo i nerazzurri lo scudetto sarà vicino la squadra protagonista al galà dell'associazione italiana calciatori allegri dice tutto merito dei giocatori e poi il calciomercato che chiude questa sera alle 23 la Roma prenota a Kessi ciao Gabbiadini che andrà in Premier League giallorossi scatenati ultimo assalto a De Frey Ranocchia in prestito all'Alsiti i colpi ovviamente nella giornata finale dalle 17 sulla gazzetta punto it in casa rossonera poi il Milan perde i pezzi Bonaventura resterà fuori tre mesi fuori anche De Sciglio lesione all'adduttore per Jack Bonaventura che sarà operato in Finlandia il terzino invece tornerà a marzo adesso andiamo avanti andiamo a vedere il corriere dello sport Higuain scatenato e salta la Juve in fuga con l'Inter ci prendiamo lo scudetto battiamo i nerazzurri e mezzo campionato è nostro i cardi top segnerò tantissimo più dell'anno scorso e poi l'associazione italiana calciatori quanti premi per i bianconeri il mercato che come detto in precedenza termina alle 23 Gabbiadini e Ranocchia in Premier Napoli la punta al Southampton per 20 milioni Inter il difensore va all'Al City a fare accordi trattative e colpi di scena una giornata ovviamente piena di notizie stasera Pioli in Coppa sfida la Lazio di Ciro Immobile il tecnico con i big vuole conquistare la semifinale ancora ufficializzate le date Napoli in otto giorni Juve Roma e Ronaldo dal 28 febbraio al 7 marzo ci sarà questo tour de force per il Napoli limiti agli ingressi negli States c'è già l'effetto Trump lo sport statunitense nel caos limpiadi a rischio e rimpianti per Roma andiamo su tutto sport e il vero segreto della Juve attrazione anteriore Mazzu King ovviamente facendo il gioco di parole con Mandzukic con il cognome del croato esclusiva con il CT della Croazia Kacic che esalta il bianconero è un guerriero con Allegri sarà decisivo anche da esterno molti combattono per 10 minuti lui lo fa sempre anche in allenamento il mercato che chiude alle 23 Ranocchia sceglie l'Al City il Southampton su Gabbiadini Mounier sì all'Atalanta e poi Juric ritrova Palladino il Torino ancora assalto del Toro a Imbula e Macac manovre su più tavoli per il centrocampo ho chiesto il Franco-Belga dello Stoc nel mirino puri giovane del Marsiglia oltre a Dumbia i guai per il Milan Bonaventura shock lesione del tendine stagione a rischio per il centrocampista che sarà operato nei prossimi giorni scusate e poi la MotoGP testa Sepang Stoner e Dovizioso la Ducati vola Lorenzo invece fa fatica rapidamente andiamo a vedere anche qualche titolo sul Corriere della Sera punto it in particolare troviamo il bando anti-islamici con Trump che licenzia il capo del Dipartimento di Giustizia i sette stati colpiti dai provvedimenti e vedete qui la foto di Sally Yates cacciata proprio da Donald Trump questo sempre per restare ad uno degli argomenti principali che abbiamo visto nelle aperture dei quotidiani e poi tasse nessun aumento il piano per l'Unione Europea nella lettera a Bruxelles prevista la lotta all'evasione una nuova finestra di rientro dei capitali e nessuna manovra sull'iva poi andiamo sulla repubblica punto it Trump caccia la ministra di interim della giustizia non voleva difendere il decreto sull'immigrazione anche qui troviamo in primo piano quanto sta accadendo negli Stati Uniti Obama contro i bandi agli islamici a rischio i nostri valori il presidente valuta la revoca le tutele gay dipendenti federali scendiamo nel taglio basso il Canada attacco la moschea sono sei morti arrestato lo studente franco-canadese che su Facebook inneggiava Trump e a Marine Le Pen dunque si segue la pista dell'estremismo di destra e ancora la borsa Milano perde il 3% unicredit giù l'abbiamo visto anche in precedenza con l'allarme sullo spread che risale a 187 punti base infine la maturità latino al classico matematica allo scientifico tutte le materie per la seconda prova per quanto riguarda gli studenti del liceo scientifico è stato sventato l'incubo del compito di fisica noi ci fermiamo per il break pubblicitario per andare a vedere le previsioni del tempo eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di mattino 6 torniamo le notizie dalla nostra regione e dunque andiamo a leggere le pagine interne di centro e messaggero in primo piano sul centro l'allarme idrogeologico esondazioni e frane e ancora rischio neve precipitazioni in 15 giorni per 20 milioni di tonnellate ora comincia a sciogliersi la neve da Alfonso problemi per il suole di fiumi arrivano 66 milioni per 74 progetti in questo specchietto trovate la popolazione a rischio frana vedete insomma il totale delle persone provincia per provincia in percentuale nel taglio basso dopo il blackout verso un tavolo regione Enel non solo rimborsi in bolletta questo chiede la regione all'Enel e poi l'invaso di Chiauci diga via la responsabile sicurezza il commissario licenza all'ingegnere sindaci preoccupati andiamo a vedere insieme intanto il servizio con l'intervista al presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso a margine della conferenza stampa di ieri per presentare gli interventi per il dissesto idrogeologico Paolo Renzetti E' venuto fuori questo piano di 65 milioni di euro ulteriori rispetto agli ultimi 25 milioni di euro che descrivono interventi puntuali su circa 40 comuni 7-8 situazioni idrauliche fluviali puntuali e anche difesa della costa per alcune altre realtà di tratti di mare noi assicuriamo ai sindaci ai gestori anche dei servizi competenti della regione che continueremo a procurare risorse per aumentare questi investimenti che devono mitigare il rischio idrogeologico consolidare i centri abitati fare in modo da ridurre anche il rischio di sondazione fluviale e difendere le attività economiche della costa e la bellezza del nostro mare siamo adesso a oltre 250 milioni di euro di investimenti in 30 mesi a favore della stabilizzazione del suolo abruzzese di qui a 60 giorni noi avremo di sicuro i vincitori delle gare che sono gare ad evidenza pubblica e poi i vincitori delle gare dovranno dimostrare l'idoneità giuridica avere pagato i contributi essere a posto con l'antimafia per poter avere la consegna dei lavori e iniziare le attività di cantiere anche l'Europa ci darà risorse e continueremo anche come ci incoraggia la struttura tecnica di missioni di Palazzo Chigi ho chiesto ai sindaci ai progettisti dei sindaci di fare in modo che le economie non siano necessarie poiché devono servire a finanziare ulteriori investimenti noi di qui ad un mese metteremo in campo altre condizioni per altre procedure per altri finanziamenti Presidente lei in conferenza stampa ha parlato della tragedia di Rigopiano ha detto vogliamo avere la verità e anche presto noi concorreremo attraverso la nostra documentalità le nostre esperienze a favore della magistratura per ricostruire la verità poiché questa serve indiscutibilmente come già stanno facendo i magistrati e poi vogliamo dare una mano ad organizzare ulteriormente la filiera istituzionale per fare in modo che l'impazzimento climatico la prossima volta abbia una risposta crescente anche dal punto di vista delle risorse intanto c'è stato un incontro fra parlamentari e regione Abruzzo con la richiesta di interventi straordinari il governatore ha appunto incontrato deputati senatori e consiglieri regionali Chiavaroli prima le scuole e le imprese sospiri dice serve una legge per l'Abruzzo possiamo andare a vedere anche le immagini dell'incontro i parlamentari abruzzesi fanno fronte comune e chiederanno al governo di inserire nel decreto che varerà giovedì i rimborsi per i danni diretti e indiretti subiti per il maltempo e per il terremoto da parte di aziende e di imprese della regione così si è stabilito ieri nell'incontro come detto si è svolto a Pescara nella sede della regione un appuntamento al quale hanno preso parte tra gli altri il sottosegretario della giustizia Federica Chiavaroli molti deputati del Partito Democratico e anche quelli di opposizione quindi centrodestra e Movimento 5 Stelle è necessario creare presupposti per una posizione giuridica istituzionale e politica ha detto D'Alfonso che oggi incontra il ministro Claudio De Vincenti e potrebbe incontrare anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella una posizione continua D'Alfonso che consenta di individuare con immediatezza lo strumento più adatto per il risarcimento dei danni diretti e indiretti patiti dall'Abruzzo andiamo avanti con la lettura del quotidiano e il centro cambiamo pagina ma insomma ci occupiamo sempre dei risvolti del martempo con l'inchiesta di Rigopiano sequestrati i telefoni delle vittime dell'hotel si cerca nei messaggini per ricostruire gli allarmi inascoltati intanto la procura ha nominato tre consulenti un ingegnere ambientale uno strutturale e un geologo per capire meglio che cosa è successo davvero a Rigopiano e intanto ieri è stato ascoltato il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta per tre ore come testimone dai carabinieri forestali allora andiamo a vedere insieme il servizio proprio sull'inchiesta di Rigopiano proseguono a ritmo serrato le indagini della procura di Pescara coordinate dal procuratore aggiunto Cristina Tedeschini e dal PM Andrea Papalia sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola travolto da una valanga il 18 gennaio scorso i magistrati hanno aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio plurimo colposo sulla tragedia ha costata la vita a 29 persone ma al momento il registro degli indagati continua ad essere vuoto l'area del disastro è stata posta sotto sequestro mentre si intensificano gli interrogatori dei soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda in mattinata è stato ascoltato come persona informata dei fatti il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta al quale i carabinieri forestali hanno chiesto conto di tutto ciò che attiene le competenze e le responsabilità del primo cittadino nell'ambito della vicenda nel frattempo sono già al lavoro tre consulenti della procura due ingegneri del Politecnico di Torino e un geologo proveniente da Trento si tratta di geologi ed ingegneri che avranno il compito di ricostruire tutti gli aspetti circostanziali e fisici dell'evento fornendo risposte sulle cause sulle ragioni e sulla dinamica della valanga a partire dall'eventuale incidenza delle scosse di sisma che si verificarono nel corso della giornata in cui si è verificata la valanga inoltre verrà ricostruita la dinamica del crollo dell'edificio saranno compiute analisi sui materiali con i quali è stata realizzata la struttura e sarà esaminata tutta la vicenda costruttiva edilizia che comprende anche uno dei quesiti più scottanti ovvero se l'hotel Rigopiano potesse essere costruito in quella porzione di territorio rivelatasi a rischio parallelamente gli inquirenti stanno lavorando anche sulla ricostruzione della dinamica fattuale degli eventi con particolare riferimento al modo in cui è stata gestita la richiesta di intervento inviata dall'albergo sia prima che dopo la valanga sulle varie responsabilità della catena di comando in merito alla pulizia e percorribilità della strada provinciale che conduce all'hotel Rigopiano sulla gestione del bollettino contenente l'allerta valanghe Meteo Mont che il 18 gennaio indicava rischio 4 su un massimo di 5 ulteriori elementi soprattutto sugli eventuali ritardi nei soccorsi e sulla dinamica del disastro saranno forniti dai risultati degli esami autottici i 29 corpi delle vittime sono stati tutti già sottoposti ad autopsia ma Tedeschini e Papalia stanno aspettando di ricevere le ultime relazioni per poi essere nelle condizioni di delineare un quadro più preciso su cause tempi e circostanze dei decessi sull'hotel di Rigopiano ci fu un'inchiesta anche nel 2008 che viene riportata dal centro e di cui sicuramente avrete avuto notizia nei giorni scorsi la sgradevole zona grigia che assicurò i posti di lavoro sotto accusa finirono gli abusi edilizi per una recensione all'hotel crollato i politici piazzarono parenti e amici ecco le confessioni e le intercettazioni bisogna dire che questa inchiesta finì con l'assoluzione degli imputati e qua viene riportata appunto la sentenza la vicenda va annoverata nella zona grigia moralmente sgradevole ma penalmente irrilevante dei comportamenti abituali dei soggetti titolari di potere i quali ritengono di utilizzare la loro posizione di primazia per assicurare vantaggi ai familiari e agli amici ma come detto nulla di penalmente rilevante secondo il tribunale di Pescara andiamo avanti sempre su Rigopiano ma cambiamo testata passiamo al messaggero Lacchetta mai ricevuto l'allerta per le valanghe ha ascoltato il sindaco di Farindola ha messo in campo tutto quello che avevo ha detto il primo cittadino Sigili al sito tre periti della procura accerteranno la dinamica del disastro poi D'Alfonso tempesta perfetta fiscalità mirata dal governo non bastano i rimborsi ci vuole una norma per la ripresa delle attività produttive l'ex governatore Gianni Chiodi dice la priorità è la messa in sicurezza delle scuole poi c'è un richiamo di Monsignor Forte l'arcivescovo di Chieti Abruzzo Tenace ha la forza per risollevarsi ancora andiamo avanti con la lettura dei giornali adesso torniamo sul quotidiano il centro andiamo ad aprire la pagina Abruzzo i veleni di bussi il processo all'Aquila mai condannato in Italia per avvelenamento doloso l'avvocato della difesa Sassi dice dal 1992 prelievi con valori accettabili l'inquinamento della Tremonti non è attribuibile agli imputati attuali questo per quanto riguarda la tesi difensiva l'accenno storico nel sito di bussi negli anni 30 il regime fascista produceva i prite usata poi nei bombardamenti per la conquista delle colonie e va avanti il processo in corte d'assise d'appello all'Aquila si dovrebbe arrivare a sentenza entro la metà di febbraio e poi per l'anno 2017 e 2018 la regione dà il via libera al nuovo piano scolastico a San Demetrio ci sarà la sede amministrativa del nuovo istituto comprensivo con 590 alunni l'assessore Sclocco un liceo coreutico all'Aquila questi alcuni degli stracci nell'atto prodotto dalla regione Abruzzo andiamo avanti passiamo la pagina di Pescara sempre sul quotidiano il centro i conti del comune oggi il voto sul bilancio la città perde 5 milioni è lontana l'intesa fra maggioranza e l'opposizione la trattativa intanto va avanti ma a mezzanotte scade il termine per approvare la delibera e ottenere i soldi qui vengono riportate le posizioni di centrodestra lista Teodoro e Movimento 5 Stelle che al momento si scontrano con il partito democratico il partito di maggioranza proprio sulla questione bilancio nel frattempo sull'immondizia stangata ingiustificata gli artigiani della CNA bocciano l'incremento della spesa per le imprese un salasso per bar e ristoranti intanto è stata prorogata il 28 di febbraio la scadenza della COSAP nell'aula torna l'allarme smog le polveri sottili superano di nuovo i limiti in tre quartieri e dunque torna l'allarme a Pescara ancora tassa comunale rifiuti le famiglie pagheranno 5 euro in più varate le nuove tariffe tari con lievi modifiche imposta più cara per alberghi negozi e discoteche andiamo avanti la tragedia di Rigopiano canti e doni per l'addio a Tobia e Bianca città Sant'Angelo quasi mille persone ai funerali del dipendente dell'agenzia delle entrate e della commerciante nel taglio basso a Moscufo addio al maestro Real Lucchi Basili insegnava alla scuola Orizzonti andiamo ancora avanti con la lettura del giornale e passiamo alla pagina alle altre pagine di Pescara case popolari i progetti controlli nei palazzoni later si affida ai droni dopo le scosse di terremoto cominciano gli accertamenti negli edifici più alti via libera della regione ai lavori in via caduti per servizio e via salara vecchia andiamo ancora avanti telefonia scioperano in 5.000 per il mancato rinnovo del contratto domani manifestazione davanti alla prefettura dei lavoratori dei call center e dei dipendenti di Team Vodafone e Wind3 la buona notizia di Pescara è che è stata tappata la voragine che si è aperta in via Antonelli i lavori conclusi la strada viene riaperta al traffico dopo i disagi alla circolazione dei giorni scorsi andiamo ancora avanti arriva Giorgio Pasotti per catturare iscritti alla Michetti Pascoli giovedì in comune l'appuntamento con l'attore regista per la presentazione dell'offerta formativa della scuola media a Francavilla Stadio del Mare ora l'inaugurazione slitta a fine marzo l'impianto sulla riviera sud in zona foro doveva essere ultimato l'estate scorsa il rinvio è stato giustificato da proroghe e dal maltempo lo spazio all'aperto è progettato per ospitare rassegne sportive cinema e concerti musicali e appaltato alla ditta ed il Pini SRL di Chieti per un importo di 350 mila euro nel taglio basso sempre da Francavilla al mare ruba parmigiano scatta l'arresto altri due giovani denunciati per il furto di alimenti in un supermercato passiamo adesso alle altre notizie dall'area metropolitana in particolare da Montesilvano i nostri obiettivi un mondo migliore il reddito di dignità ai referenti regionali del COEM chiariscono le finalità del movimento quella di un euro e solo una donazione per quanto riguarda questo nuovo movimento di spalla via Salieri riapre il cantiere per ultimare 12 alloggi comunali ancora nel taglio basso città Sant'Angelo la Fabiani nel gruppo di sinistra italiana la pagina di penne popole dell'alta Val Pescara Marconi alunni a casa per tutta la settimana penne inagibilità dell'istituto e difficoltà a reperire i MUSP o di ricorrere a soluzioni alternative slittano i turni nella succursale a lezioni solo le quinte a Caramanico Terme la regione da 1,3 milioni per la frana di 5 anni fa a Roccamorice si ustione in casa grave un anziano l'86enne è stato ricoverato in prognosi riservato a Pescara e poi trasferito al centro grandi ustionati di Roma Castiglione a Casauria venerdì e sabato la festa patronale e poi Jeff Bridges sceglie Brioni per il gala dei SAG Awards Andiamo adesso avanti sui giornali però passiamo al messaggero andiamo a vedere altre notizie per quanto riguarda le altre province partiamo dall'Aquila tutte le scuole sono sicure i genitori vogliono garanzie e cialente e decrescenti si rassicurano ma le famiglie sollevano perplessità alcune mamme chiedono le lezioni nei MUSP nei moduli provvisori anche con i doppi turni domani ci sarà il ritorno in classe in un clima di alta tensione sindaco e presidente della provincia prendono posizione e poi allarme sisma cessato chiusi i centri di accoglienza ancora centro strisce blu e tapirulanta area di normalità morto nella rilotte la procura blocca i funerali di Anzuini inchiesta dopo l'esposto della famiglia nel taglio basso il processo crolli inevitabili con l'uso dei satelliti l'analista Morigi depone nell'udienza civile controlla grandi rischi inevitabili alcune vittime andiamo nella pagina di Avezzano sul Mona banda armata assalta il magazzino delle slot machine quattro rapinatori con le pistole in pugno legano un dipendente un altro riesce a scappare la fuga con l'incasso di 3.000 euro l'abmw del rappresentante incendiata da un piromane sempre notizia che arriva dalla Marsi che da Avezzano ancora da Avezzano di Pangrazio a Roma per tribunale e sicurezza nel taglio basso sul Mona la città senza un piano dell'emergenza poi loiceo video recuperato recupero lontano infiltrazioni dopo le crepe dal sisma lavori ancora al paolo tra tempi tecnici e lentezze procedurali l'intervento richiederà forse due anni a Roccaraso statale 17 chiusa per neve Piccone Gentiloni spieghi quanto accaduto passiamo alla pagina di Chieti dopo l'ultimo ride vandalico blindato il tunnel pedonale i gnoti sono entrati nell'ascensore al via lavoro urgenti sulla recinzione l'operazione per la messa in sicurezza nell'area cantiere di largo Barbella ennesima intrusione nel perimetro dell'incompiuta il comune corre ai ripari l'adannunzio inaugurazione accademico continuano le polemiche per quanto riguarda l'ateneo di Chieti e Pescara andiamo ancora avanti sempre sulle notizie dal Chietino Lancianova Stortona la pagina discariche abusive scatta la protesta noi abbandonati residenti ferociti in contrada sabbioni senza tutele sindaco assessore tolleranza zero e maxi multe questa la notizia che arriva da da Lanciano e poi a vasto tassa rifiuti un consiglio per evitare gli aumenti nel taglio basso Ortona nuovi marciapiedi in quattro contrade così la viabilità diventa più sicura via i lavori potenziata anche l'illuminazione passiamo alla pagina di Teramo la promessa di Malagò lo sport non vi abbandona il vice sindaco Mirella Marchese dice ci serve un segnale di speranza il presidente del CONI ribadisce amplieremo i due interventi già previsti ci sono i fondi del governo già deliberati ho notato il dissesto a macchia di Leopardo ha detto Malagò e poi i danni ammontano a 10 milioni dice l'onorevole Paolo Tancredi per quanto riguarda una prima stima dei danni del maltempo l'onorevole porterà avanti in Parlamento l'iniziativa di defiscalizzazione per i contribuenti problemi anche per il commercio a Teramo allora andiamo a vedere il servizio di Tania Bonici Castelli tra le categorie maggiormente colpite dagli ultimi eventi naturali in Abruzzo c'è quella dei commercianti a Teramo soprattutto dove tanti cittadini hanno scelto di trasferirsi sulla costa sicuramente per eccesso di allarmismo la situazione sta degenerando di ora in ora e le risposte dalle istituzioni non devono tardare ad arrivare perché l'autonomia economica di queste attività è diventata esigua ma voi di cosa veramente avete bisogno in questo momento? Noi abbiamo bisogno di un aiuto serio di un aiuto che arrivi dal governo ma deve essere la nostra regione a rappresentarci noi siamo stati zitti fino adesso continueremo a stare zitti per rispetto anche di tutto quello che è successo intorno a noi però iniziamo veramente a sentirlo noi è da agosto che tra una cosa e l'altra stiamo tirando la corda è da agosto con le scosse di agosto che Teramo vive in un clima di terrore se non ci danno una mano adesso io non so per quanto tempo i negozi a Teramo potranno andare avanti io non posso pensare che un teramano voglia trasferirsi voglia lasciare questa città io non mi fa orrore pensare che questa città si debba si possa spopolare assolutamente dobbiamo continuare a combattere noi in prima linea in prima fila disperati più degli altri i commercianti del Corso San Giorgio che hanno già dovuto subire un cantiere per oltre otto mesi a causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione lavori attualmente fermi e non si sa perché una volta completato il Corso Nuovo di Teramo sicuramente sarà bellissimo e diventerà una grande attrazione sì ma quando? innanzitutto credere più nella città propria innanzitutto credere in quello che si fa innanzitutto e dare dei servizi buoni il commercio dopo gli ultimi avvenimenti è veramente in crisi dal momento che le scuole sono chiuse le persone sono giustamente fuggite perché non si sentono sicure nella propria città penso che sia un discorso che va molto indietro la politica probabilmente ha fatto delle scelte sbagliate e non ha programmato soprattutto una città che non ha un programma che non ha programmazione a mio avviso non ha futuro le parole d'ordine oggi tra i terramani sono resistere fare acquisti in città stringere i denti e restare uniti perché come dice il vignettista Ivan Di Marcello nonostante tutto Teramo fa ammati torniamo sul centro in particolare nella pagina di Teramo i giorni del lutto Atria abbraccia le sue vittime di Rigopiano c'erano centinaia di persone in piazza Duomo per i funerali di Claudio Baldini Sara Angelozzi e Cecilia Martella e vedete proprio le fotografie torniamo rapidamente sul messaggero per andare in provincia di Teramo stroncato da un infarto stava per sottoporsi ad un elettrocardiogramma Marco Di Silvestre 47 anni pizzaiolo di Giulianova aveva ritirato l'impegnativa dal medico ma la morte lo ha atteso al ritorno a casa a Roseto l'assemblea casa civica rinnova le cariche e poi ancora nel taglio basso Val Vibrata di Nicola corre da solo Martinsicuro laboratorio a Giulianova arrivano i soldi per risanare il tordino passiamo adesso allo sport torniamo sul quotidiano il centro andiamo ad aprire la pagina dell'Abruzzo Sport le trattative la Juve Gela il Pescara Mandragora non parte i bianconeri si tengono i del centrocampista in arrivo Romagna calcio mercato sondaggio per evangelista dell'Udinese chiesto grassi all'Atalanta verre alla Samp per 4 milioni di euro queste le ultime di mercato nell'ultimo giorno di mercato domani intanto arriva la Fiorentina contro i Viola l'ultima gioia poi 40 gare senza vittorie il 6 gennaio 2013 con i Toscani l'ultimo acuto in serie a dei Biancazzurri la salvezza è un miraggio ma in passato ci sono state rimonte clamorose andiamo a vedere l'apertura del messaggero per quanto riguarda lo sport arriva Cerci no di Mandragora il presidente Sebastiani accelerato per portare a Pescara l'ex attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid la Juventus invece dice no al rientro del centrocampista però darà il difensore Romagna Verre e Gionber dovrebbero restare secondo il messaggero andiamo ancora avanti torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere le altre notizie dalla pagina dello sport in Lega Pro i guai del diavolo Teramo Barbuti per risolvere la crisi Zauli ha la fiducia a tempo l'attaccante ai nostri tifosi prometto sudore impegno Campitelli conferma il tecnico ma domenica sarà decisiva e si gioca con il Sant'Arcangelo alle 14.30 Scipioni verso il rientro in formazione allora andiamo a vedere il servizio su Barbuti Tutte le parole del Presidente e il Direttore mi sono subito convinto perché sono state parole forti di persone che hanno avuto fiducia in me e io per le persone che mi vogliono a tutti i costi e do l'anima innanzitutto a me le sfide importanti mi piacciono Teramo non credo sia una piazza che merita questa posizione in classifica quindi c'è un progetto importante ho deciso di scusarlo la prima squadra è Modena che mi ha preso da 10 anni poi sono stato lì fino ai 16 anni poi sono passato a Sassuolo poi sono passato a Barletta Priglia Pordenone Torres Lumezzane ho segnato due volte con tutto il Teramo adesso speriamo di segnare tanti gol invece per il Teramo sono una punta centrale di movimento sono una punta che gli piace fare la guerra davanti pelota su tutti i palloni prometto comunque di sudare fino all'ultimo minuto per questa maglia perché i gol comunque arriveranno ho giocato con molti compagni che adesso sono al Teramo Camilleri Imparato Amadio Sansovini lo conosco di Teramo so che è una gran bella piazza con un tifo molto caldo quindi si può solo che fare bene dico solo che per questa maglia darò l'anima proseguiamo sul messaggero come detto Teramo ha preso Barbuti ma salta Magnaghi poi andiamo in Serie D stese nei piani alti con la vittore sta al timone l'allenatore riscuote la massima fiducia della società dopo il vertice l'Aquila tutto in una partita domani contro il Rieti big match che vale un campionato peluso sarà KO il DS Battisti giocherà la migliore formazione con un pizzico di Spavalderia e poi il San Nicolò due gare per decidere il futuro il primo posto sempre raggiungibile Fermana ha 12 punti la trasferta di domenica a Pesaro e il recupero con il Matelica in chiave playoff adesso torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere qualche notizia anche dal basket di A2 chi sale chi scende casa grande salvezza Roseto merita di andare ai playoff la biancazzurra tra i protagonisti della vittoria a Imola il nostro segreto è correre molto a Udine ci aspetta Rei e poi la pro Gerchieti tutto il rapporto dal patron dopo la figuraccia coach Galli con Iesi abbiamo giocato in modo imbarazzante c'è bisogno di un cambio di marcia già da Mantua questa questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento alla nostra informazione con il TG6 delle 14 e delle 19 mentre Mattino 6 torna domani alle ore 7 grazie ancora vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti